E' possibile e semplice sostituire gran parte dell'olio di palma di importazione in Italia, perché? Perché per tre quarti finisce nel biodiesel, finisce nei motori e allora vogliamo sostituirlo? Benissimo, facciamo biocarburante da biometano, quindi soltanto scarti, alimentando una filiera italiana, quindi dando lavoro e potenzialità all'Italia. Pensate che in Svizzera basta togliere l'accisa sui carburanti e il biogas, biometano da produzione agricola diventa immediatamente conveniente e non sostituisce gli alimenti. Poi c'è la componente alimentare, però parliamoci chiaro, quanto paghiamo i biscotti? Sì, se dentro i biscotti c'è un olio un pochino più caro di origine nazionale, non è che ci fa male moltissimo. Rimane una minoranza di produzione alimentare piuttosto che di cosmesi, su cui può essere interessante il prodotto olio di palma. In questo caso vorremmo che fosse certificato, e cioè che sia davvero un valore aggiunto sul prodotto finale.